Eccoci qua cari amici bentrovati sul canale, se non lo avete ancora fatto iscrivetevi, mi raccomando ve lo chiedo tutti i giorni perché questa community sta crescendo sempre di più, mi fa enormemente piacere così come mi fa enormemente piacere leggere i vostri commenti, l'ho sempre detto anche di chi non la pensa come me, è un modo per confrontarsi, insomma la cosa importante poi è che si faccia sempre nel pieno rispetto degli altri che magari la pensano in maniera completamente è diversa, attivate la campanella delle notifiche così potrete rimanere sempre aggiornati alla pubblicazione di nuovi contenuti. Juventus-Bologna, seconda giornata del campionato di Serie A, la Juventus è ovviamente alla ricerca di conferme dopo una buona prestazione contro l'Udinese, però insomma non possiamo sicuramente farci prendere dall'entusiasmo per un 3-0 alla prima giornata, tra l'altro un 3-0 che si è anche abbastanza limitato alla prestazione del primo tempo, dobbiamo sicuramente aspettare, dobbiamo vedere più volte all'opera questa squadra che obiettivamente dà una certa percezione positiva. Percezione positiva che ovviamente dovremmo anche intravedere in situazioni di gioco nuovo, in difficoltà nuove e per questo motivo credo il test contro la formazione di Tiago Motta possa tornare tantissimo utile. Prima di entrare però nel merito della partita andiamo sulle scelte di Massimiliano Allegri che ha sciolto le riserve, due novità di formazione rispetto ad una settimana fa contro l'Udinese, la prima novità l'ha svelata lui stesso alla vigilia perché in porta giocherà Perin, Cesni ha preso una botta dunque non è disponibile. La difesa sarà tutta brasiliana quindi ancora fiducia ad Alexandro con Bremer e Danilo, l'altra novità invece riguarda il centrocampo perché Allegri ha scelto di schierare dal primo minuto Nicolo Fagioli e non Fabio Miretti. Una scelta per certi versi che va a confermare quelle che sono le gerarchie del reparto Nicolo Fagioli che già a Udine avevamo visto in campo nel secondo tempo va sostanzialmente a riprendersi quella maglia da titolare che ha conquistato sul campo nella passata stagione, lo ricorderete dopo quella partita a Di Lecce che in qualche modo cambiò il suo percorso stagionale. Dunque in campo contro il Bologna dal primo minuto Nicolo Fagioli insieme a Locatelli e Rabio in mezzo, fascia sinistra a Cambiaso, fascia destra a UEA. Diciamo che questi due sono davvero le rivelazioni positive della Juventus almeno fino a questo momento della stagione. In avanti Allegri non poteva che confermare la fiducia a Chiesa e Blaovic ma attenzione perché poi più volte ha ribadito o ieri di avere una batteria attaccanti interessante. Ha più volte parlato di Milik e di Ken entrambi in crescita e entrambi vogliono ritagliarsi uno spazio importante nella Juve di questa stagione. E poi occhio anche a Kenan Ildiz che ha già fatto il suo debutto contro l'Udinese. Ha ascoltato Massimiliano Allegri perché lunedì scorso si è presentato in parruccheria, ha tagliato i capelli. Quindi insomma anche l'allenatore è stato accontentato rispetto alla richiesta di tagliare i capelli perché aveva detto dopo la gara di Udine li ha toccati troppe volte nel corso della partita. Scherzi a parte, la classe 2005 che l'anno scorso si è formato in primavera dobbiamo assolutamente seguirlo. E lo stesso Massimiliano Allegri ha detto insomma di credere molto nel potenziale di questo ragazzo. Al pari di Uisen che ieri ha fatto un test amichevole con la seconda squadra, Nekjen, contro l'Alessandria. Minutaggio per il classe 2005 olandese, anche per lui ci sarà spazio nel corso della stagione. Non a caso insomma il club è Allegri. Hanno deciso di aggregarlo in pianta stabile in prima squadra. Poi ci sarà di tanto in tanto la possibilità di andare a fare minuti in seconda squadra e quindi ottimizzare anche un po' le strutture a disposizione. Perché Juve-Bologna è una partita delicata ed è una partita che non può essere ovviamente decisiva alla seconda giornata di campionato, ma può sicuramente darci delle buone indicazioni. Può sicuramente essere significativa. Beh, per due motivi sostanziali. Il primo è che la Juventus dopo la buona prestazione di Udine deve ancora acquisire autostima per proseguire in maniera positiva questo campionato di Serie A perché partita dopo partita deve costruire la consapevolezza di poter partecipare da protagonista assoluta alla corsa a Scudetto. Perché poi un conto è dire che la Juve deve sempre giocare per vincere ma questo fa parte della storia, questo fa parte del DNA del club, questo fa parte della teoria. La pratica, la pratica dobbiamo vederla a strada facendo e per questo motivo è importante dare continuità ai risultati, alle vittorie in modo da cominciare a respirare anche all'interno del gruppo la volontà e la consapevolezza soprattutto di avere tutte le carte a regola per recuperare quei tanti punti di distanza dal Napoli che ha vinto lo Scudetto scorso e anche le altre squadre che si candidano ad un campionato di vertice. Focus su Massimiliano Allegri perché poi il tecnico bianconero è vicinissimo a nuovi record dopo essersi messo in scia a Giovanni Trapattoni e aver raggiunto quota 250 vittorie in assoluto sulla panchina della Juventus. Al tecnico bianconero manca un solo punto per raggiungere quota 500 punti sulla panchina bianconera e due sole lunghezze da quota 950 punti da allenatore in Serie A di conseguenza in caso di vittoria col Bologna potrebbe centrare entrambi i record insomma sicuramente non può che far piacere specie agli appassionati dei numeri certo c'è un aspetto che credo abbia messo lui in forte evidenza nel corso della conferenza stampa di ieri a me non piace mai parlare di allenatore più o meno tifoso della propria squadra credo ogni allenatore sia il primo tifoso della propria squadra e ovviamente che è concentrato ogni giorno per apportarla al successo però credo la dichiarazione di Massimiliano Allegri che ha chiarito che vorrà lasciare la Juventus con un progetto solido con una squadra pronta a vincere per tanti altri anni ancora beh credo sia la dichiarazione più juventina che potesse fare il tecnico della Juventus uomo azienda questo l'abbiamo capito nel corso degli anni però credo dentro quella dichiarazione ci sia davvero una presa di coscienza un grandissimo senso di responsabilità che leggo anche alla presidenza scorsa perché poi dobbiamo sempre ricordare le azioni in momenti decisivi quando lo scorso anno Andrea Agnelli comunicò le proprie dimissioni Max Allegri era pronto a fare un passo indietro fu l'ex presidente della Juventus a chiedergli di rimanere sulla panchina a bianconera e ovviamente di provare a riportare la squadra al successo prima possibile non è successo nella passata stagione si sta provando a innescare il meccanismo giusto per portare la Juventus in questa di stagione ovviamente non ci sono e non possono esserci divisioni all'interno dell'ambiente bianconero deve esserci un solo obiettivo deve esserci una sola anima che deve volere in tutti i modi il ritorno al successo e credo almeno per quello che percepiamo in queste prime settimane della stagione si stiano creando le condizioni migliori per quantomeno provare a vincere se ne avete voglia nei commenti pronostico sul risultato di Juve Bologna e soprattutto i marcatori di questo match grazie grazie